Cari pellegrini, il 28 gennaio del 1077 Enrico IV, imperatore, viene finalmente accolto da Papa Gregorio VII che era ospite nel castello di Matilde di Canossa. Per qualche giorno Enrico IV era fuori le mura di questo castello in attesa che il Papa lo potesse accogliere. Facciamo un poco di mente locale, che cosa stava accadendo? I libri di storia ci dicono che in quel periodo vi era la cosiddetta lotta per le investiture, cioè l'imperatore, in questo caso Enrico IV, si arrogava il diritto di poter nominare i vescovi per tutta una serie di questioni che adesso non trattiamo, la questione dell'ereditarietà dei feudi eccetera. Ovviamente questa era un'ingerenza da parte dell'impero nei confronti della Chiesa. Ebbene Gregorio VII rispose con la scomunica. Questa scomunica ovviamente fu destabilizzante per il potere di Enrico IV, per cui Enrico IV fu costretto a chiedere perdono al Papa e quindi andare lì, umiliarsi dinanzi al Papa, attendere che il Papa lo accogliesse affinché potesse ritirare la scomunica. Ora perché vi voglio parlare di questo? Ho voluto accennarvi a questo episodio storico in coincidenza appunto con il 28 gennaio. Vi sarete accorti che i nostri editoriali molto spesso utilizzano appunto queste sorte di coincidenze temporali. Perché? Perché questo fatto ci dà la possibilità di fare una riflessione molto importante. Vedete, nel Medioevo, cioè nei secoli della società scristiana, della civiltà cristiana, vi era un tipo di consuetudine, cioè se il potere politico, il rappresentante del potere politico, il re, l'imperatore, eccetera, si trovava in stato di peccato pubblico, in realtà non perdeva il suo potere, perché noi sappiamo che il peccato, il peccato mortale, rende membri morti della Chiesa, ma comunque si è ancora nella Chiesa, anche se poi ovviamente il peccato mortale, se si muore in maniera impenitente, si va all'inferno, ma comunque si è membri morti della Chiesa. Altra cosa invece è la scomunica. Nel momento in cui si riceve la scomunica si è fuori la Chiesa. E allora l'organizzazione politica del Medioevo è un'organizzazione molto saggia e molto sapiente. Cioè nel momento in cui il rappresentante del potere politico veniva scomunicato, di fatto si delegittimava. Perché Enrico IV dovette andare a chiedere perdono a Gregorio VII? Perché i suoi fedotari gliel'avevano detto, gli avevano fatto capire, tu sei stato scomunicato, per cui di fatto non ti riconosciamo più. Ora io ho parlato, ho detto precedentemente, che questa è una cosa molto saggia, molto sapiente. Perché? Perché limita il potere. Cioè il vero potere, il vero potere politico, deve essere limitato soprattutto verso l'alto. Vedete, non a caso nel Medioevo nacque l'usanza della incoronazione dei rei per diritto divino, che è un'usanza anche questa molto sapiente, con grande valenza pedagogica. Cioè io re posso pretendere dai voi sudditi l'ubbidienza perché anch'io mi impegno ad ubbidire ad un altro re. D'altronde noi sappiamo che la vera pedagogia è questa, no? Cioè se noi vogliamo insegnare qualche cosa dobbiamo prima di tutto testimoniarla. Se vogliamo insegnare ai nostri figli ad essere bravi figli dobbiamo anche noi renderci figli di qualcun altro. Ecco tutto questo invece sparisce con l'avvento della modernità, con l'avvento della modernità noi abbiamo un potere autoreferenziale, c'è un potere che trova la sua giustificazione in se stesso, un potere che non deve trovare dei limiti al di sopra di sé, non deve trovare altro potere al di sopra di sé, il potere che si autogiudica. E quindi abbiamo per esempio la monarchia assoluta e poi dopo la monarchia assoluta abbiamo il totalitarismo per esempio del ventesimo secolo e via discorrendo. Ora vedete c'è una bella espressione che è presente nella Veritatis Splendor di Giovanni Paolo II al numero 101, dove io adesso vado un po' a memoria, non cito proprio la lettera ma il senso è questo, dove Giovanni Paolo II dice attenzione che anche una democrazia senza valori può trasformarsi facilmente in un totalitarismo esplicito oppure subito. Perché questa questione, vedete, del potere che deve autogiudicarsi non è solamente una questione attivente alla monarchia assoluta del Seicento per esempio, oppure ai totalitarismi del ventesimo secolo eccetera, ma anche della democrazia moderna. Cioè che cosa vuole significare, vogliono significare queste parole della Veritatis Splendor, una democrazia senza valori. C'è una democrazia che non riconosce dei valori, delle categorie oggettive di bene e di male al di fuori di sé, ma pretende invece decidere da se stessa che cosa è bene e cosa è male, è una democrazia che di fatto diventa, o esplicitamente, ma anche se non esplicitamente, implicitamente, diventa una forma di totalitarismo. Ecco, la democrazia per esempio può decidere su ciò che è opinabile. Facciamo un esempio di questo tipo, un villaggio. Ci sono gli abitanti di questo villaggio che devono decidere di illuminare le proprie strade, hanno due opzioni, o mettono i pali a ogni 10 metri e quindi hanno le strade più illuminate ma devono pagare di più, oppure mettono i pali ogni 20 metri e hanno le strade meno illuminate ma devono pagare di meno. In questo caso è giusto che decida la maggioranza, no? Perché si tratta di una questione che non attiene alla legge naturale, all'ordine naturale delle cose. Ma può una democrazia per esempio decidere se i bambini che sono nel grembo della madre hanno diritto alla vita o non hanno diritto alla vita? Possono essere soppressi e non possono essere soppressi? Questo non è possibile. Se si fa questo significa che la democrazia di fatto è totalitaria. E allora il grande insegnamento della politica medievale, che poi è la politica autenticamente cattolica, è quello di riconoscere il potere, certamente, ma il potere deve essere giudicato dalla verità, deve trovare dei limiti al di sopra di se stesso. Il potere non si può autofondare, autocostituirsi. D'altronde anche i martiri cristiani riconoscevano l'imperatore, Tertulliano lo dice, non potete accusarci di non accettare l'imperatore perché l'imperatore è più nostro che è vostro. Quello che non possiamo fare è sacrificare l'imperatore. Sacrificare l'imperatore significa rendere il potere politico una sorta di moloch, una sorta di totem, una sorta di dio, di idolo. Ma il potere politico deve essere a servizio, a servizio della verità. Bene, cari pellegrini, io vi invito sempre a iscrivervi a questo canale YouTube per ricevere il quotidiano del cammino dei tre sentieri, a iscrivervi o sul canale Telegram C3S nazionale oppure dall'home page del sito. Chi volesse aiutarci, aiutare con qualche offerta il nostro apostolato, può utilizzare i parametri che sono sul sito stesso itresentieri.it. Vi saluto sempre caramente ricordandovi che Dio è verità, la bontà. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.